Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. La giornata vede maltempo diffuso su appunto gran parte della nostra penisola. Dei flussi occidentali molto instabili stanno interessando le nostre aree, portando appunto precipitazioni che saranno a prevalente carattere di temporale. Le immagini del satellite vi mostrano come in realtà questo flusso è molto lento, tende a permanere sulla nostra penisola, infatti tutta la settimana sarà instabile. Temporali che prenderanno sulle regioni settentrionali, si andranno ad attenuare nel corso della giornata sul Triveneto e poi ancora le regioni adriatiche vedranno un miglioramento in serata, la Sardegna vedrà un miglioramento in serata, al sud la situazione migliore con nubi sempre compatte che daranno luogo a alcuni fenomeni, ma comunque in miglioramento sulle regioni adriatiche. La giornata successiva vedrà ancora la presenza di temporali che localmente saranno intensi e in questa giornata il miglioramento è atteso sull'Emilia-Romagna, sempre sulle aree adriatiche sia centrali che meridionali. Temperature che in questa giornata tenderanno a diminuire di qualche grado sulla Campania, la Calabria e la Basilicata saranno più o meno stazionari invece altrove. La giornata successiva ancora diffuso maltempo sulle regioni sia settentrionali, specie sul Triveneto, ancora su tutte le regioni tirreniche, quindi a partire dalla parte della Liguria per poi scendere meglio sempre il settore adriatico. Il meglio ancora il meridione con delle deboli precipitazioni più localizzate. Sulla Sicilia un cielo sereno poco luminoso, anche qui però in giornata atteso qualche piovasco. Sulla Sardegna la parte settentrionale sarà più interessata rispetto invece a quella meridionale. Le temperature per questa giornata tenderanno a salire di qualche grado su Campania, Calabria e Basilicata saranno stazionari invece altrove. I venti sono forti dai quadranti occidentali, sulle regioni tirreniche e il mare risulterà mosso, il mare e il canale di Sardegna. Bene, è tutto per questo appuntamento, ci rivediamo dopo le nove.